E' bellissimo, questo sole, fantastico. Stiamo sciando dalle 7 di stamani e c'è tutto un piccolo break tra una sciata e l'altra. È la prima volta che vengo qui e mi sento calda, ma con il sole è molto amicizioso. È diverso, qualcosa di diverso. Qua l'aria è perfetta, fresca e si sta veramente bene. Inquinamento sicuramente qua non c'è. Sapendo cosa c'è giù in pianura, qui si sta benissimo, si respira bene. Mi è passata che la tosse, abbiamo una tosse quasi un minuto su. E' un po' di più. E' un po' di più. Due ore, tre, mi stanco e per me è un piacere anche sedersi e mangiare a tavola. E se c'è una buona tavola ancora meglio. E anche se c'è del vino buono meglio ancora. Formaggio, polenta, funghi e quelle cose così che ci stanno assolutamente sempre. Ah, boh, magari le cose un po' più particolari, non so, i canederli. C'è un suolo meraviglioso, si sta bene, si sta bene, è caldo, è tiepido e quindi meraviglioso. C'è un po' di più.